Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale, sempre su Minecraft, eh sì la camera si compenetra per tutto, incominciamo a fare quello che ci siamo detti la volta scorsa, ovvero incominciamo a fare le finestre così ci chiudiamo dentro e siamo bel tranquilli da eventuali mostriciattoli che vogliono farci del male, ovvero gli zombie. Allora per poter far ciò dobbiamo andare a raccogliere, intanto posiamo questi arborcelli e questa mela, sì ci sta, e andiamo a raccogliere la sabbia, fammi vedere quanta pale c'ho una, io direi di farne un'altra, dov'è qua questo sì, perfetto, e ne facciamo un'altra, pale 2, 2 di pale, perfetto, allora sta calando la notte però, però lì c'è la sabbia, andrà a prendere subito quella, andiamo. Anche qua c'è sabbia, sabbia dappertutto, prendiamo prima questa, ecco sapevo io, vai, beh un po' di sabbia, che la sostituiremo poi con la terra, direi che basti va, perché alla fin fine, non è che abbiamo tantissimo, occhio Dio sta facendo buio, occhio, 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 si vede più niente, oddio, è diventato buio, pesto, la shader, via 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 a dormire, per i primi tempi non voglio incontrare zombie, ok, buongiornissimo, abbiamo quella, quindi facciamo cuocere la sabbia, e direi di far, ah questa cosa qua la possiamo togliere, direi di incominciare a illuminare anche, c'è una torcia qua, una torcia qua, una torcia qua, qua manca un pezzo, no, non ce l'abbiamo, non mi dire che l'ho trasformati tutti in assi di quercia, vabbè, prendiamo questa, buongiorno quercia, è arrivato il tuo momento, uno, due e tre, e quattro, grande, ok, niente, semi proprio zero, un semino solo, e nel frattempo sta crescendo, facciamolo cresce, che bello, grazie per l'inchiostro nero, squib, molto utile, e lo buttiamo qua, allora, dov'è, 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 qua, ok, tac, e torcetta, ci siamo, direi di fare il secondo piano, dobbiamo fare delle scale, per fare delle scale, allora, vediamo quante ne facciamo, e dove le facciamo, dunque, tu entri, e io direi proprio di farle qui, che salgono, lasciando stare, anche le finestre in questo modo, proprio tagliano le finestre, quindi, in teoria, noi dovremmo avere una sorta di cosa del genere, anzi, di due, cioè, tu arrivi, fai così, qui c'hai, questo, qui fai così, 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 e sapevo io, e andiamo oltre così, beh, non è male come idea, però, a meno che partiamo dopo, però andiamo oltre, andiamo lì, un po' brutta, un po' bruttina, un po' bruttina, perché andiamo nell'altra stanza, quindi l'altra stanza, dobbiamo chiuderla, in maniera, asimmetrica, ecco, proprio così, bravo, prendilo, bravo, così, tac, e ci può stare, potremmo fare che qui ci facciamo la camera da letto, o la facciamo qui la camera da letto, e qui facciamo una stanza ricreativa, tanto, ok, quindi, senza saperne leggere né scrivere, tiriamo giù il pavimento, cioè, tiriamo su il pavimento, ok, e anche di qua, mettiamo il pavimento, che ci fa da tetto, per sotto, o per uno, ma dai, sì, bravissimo, proprio perfetto, ok, quindi noi cosa facciamo, scendiamo di qua, andiamo di là, sì, dai, questo lo chiudiamo così, anzi, non mi piace così, è bruttissimo, quindi lo rifiniamo così, no, così, è esatto, con l'angolino così, perfetto, che saliamo di qua, avrei preferito, così, qua, vabbè, così non si vedeva questa striscia qua, che ci sta, però, fa del delimitatore, potremmo anche, scortecciarla eventualmente, vediamo un attimo, non lo so, non lo so, vediamo un attimo, qui, dobbiamo tirare su, di, uno, due, e tre, uno, due, che succede qua, e, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, due, tre, uno, due, no, per uno, signori, per uno, dobbiamo andare a prendere un po' di, pietra, andiamo, andiamo a prendere un po' di pietra, questi sono le zucche, quindi da questo lato, un po' di parkour, destra e sinistra, mi immagino il personaggio che fa, destra e sinistra, con i piedi saltando come un pazzo, e qua abbiamo la nostra caverna, la nostra cava preferita, dove non c'è neanche una torcia, e fra poco, vi mostro i pullule ranno, quindi dobbiamo metterci almeno una torcia, ci prendiamo un bel po' di pietra, che ci serve, ai, ok, nel frattempo, direi di incominciare a fare un lavoro del genere, guarda, c'è la diorite sotto, io cosa avevo detto, di fare il pavimento in diorite, eh, infatti, no, però così è brutto, perché siamo proprio, no, facciamo così, a fare un po' di pietra, ok, a fare un po' di pietra, ok, 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 perfetto, queste li togliamo, facciamo entrare un po' di luce, e togliamo anche questo, ottimo, avete già capito che questa sarà la nostra caverna, la nostra miniera, continuo a dire caverna, non so perché, proprio mi è rimasto impresso questo caverna, sotto c'è qualcosa, possiamo anche andare dritto di qua, e poi c'è la sinistra, lì abbiamo preso la sabbia, il grano è quasi cresciuto, è cresciuto? No, mannaggia, però ci ha dato un seme questo qui, che andremo a piantare, allora, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo di tre, quindi mettiamo questo qui, e questo qua, è qui stesso discorso, di come abbiamo fatto qua, quindi faremo, una sorta di, cosa del genere, uno, due, tre, perfetto, adesso ci servirà, tanta, tanta legna, però, io c'ho questo qua, il problema è che non crescono, ma li sostituirei volentieri, guarda, perché il tronco di abete, è più scuro, ed è molto, ma molto, ma molto più bello, da vedere, e ne ho dodici, purtroppo, e sono pochi, sono pochi, pochini, andiamo a tirare, questi non crescono, ci si dovrebbe un po' di, di farina d'ossa, tiriamo giù questi, beh, col piccone magari no, e anche questo qua, si, tiriamo giù tutto, giù tutto, giù tutto, gli sboschiamo tutto, e si è fatto già buio, di già, è già notte, volò un po' troppo velocemente, il tempo, per i miei gusti, mi si è rotta pure, l'ascia, non è che ci sono le torce, ma ci vediamo qualcosa, e di nuovo a dormire, volano veramente, velocemente, velocemente, le giornate, allora, ci abbiamo 39 blocchi, vediamo cosa riusciamo a fare, però, non è male, il fattore che saliamo, arriviamo direttamente qui, no, è sbagliato questo, poi lo cambiamo, sento già dei mostri, che muoiono, quest'albero, mi sa che, verrà abbattuto, perché è proprio di intralcio, non c'ho, un'accetta, le ho rotte tutte, e andarcela a fare subito, un'ascia, facciamo anche questo, uno, tre, quattro, cinque, sei, e sette, uno di qua, facciamo un giro largo, e uno di qua, poi, uno di qua, e siamo finiti, ok, no, non ci spezziamo l'osso del collo, ma scendiamo da qua, e andiamo a prendere, e a farci, un po' di asce, allora, ascia, e ascia, quest'albero qui, lo demoliamo, mi sa che dovremmo demolire, anche quei due, che sono davanti a noi, in casa, perché ci fanno ombra, allora, passiamo, no, vabbè, non volevo cadere, volevo stare fermo lì, però, ce l'ho fatto, ok, allora, rifacciamo di nuovo, stai fermo qui, bravo, non te muove, mi si è bloccato il mouse, ok, mi stanno succedendo tutte cose strane, va bene, oh la la, quasi, buttiamo giù tutto, e adesso a scendere, ok, raccogliamo tutto il raccoglibile, e tiriamo giù questi qua, come vedete ci vuole tanta, tanta, tanta legna, poi per la struttura che sto facendo io, ce ne vorrà veramente tanta, e ancora non abbiamo deciso di come fare sopra, sopra le vuole fare di legno scortecciato, quindi ci servirà ancora altra legna, un po' per variare, per non avere sempre, la stessa tonalità, e il tetto, e il tetto, e il tetto, di che cosa lo facciamo il tetto? perché farlo di legno è carino, però già ho utilizzato tutto il legno qua, per fare la casa, o lo facciamo di, di pietra, che non è male, oppure, oppure, cosa sta accadendo? no, c'è una mela, perché è attaccata a questo, che a sua volta è attaccata a quello, che a sua volta è attaccata a questo, quindi facciamo così, c'è un sacco di arbor shell adesso, guarda, è ancora attaccato qua, adesso non più, e lo tiriamo giù, adesso dovrebbe incominciare a cadere il tutto, sì, stavo entrando dalla finestra, signori, ok, allora, facciamo questo, anzi facciamo così, questo va qua, e qua, guarda, guarda, infido, malevolo, ecco, spacchiamoci pure la gamba, manciamoci la mela, no, ci dà due di mela, mannaggia, pensavo che ci desse di più, uno, due, e, tre, mi sembrava strano, ho detto ho finito il legno, ne ho raccolto un casino, oh, lala, questo è più basso, è il secondo piano, direi di fare di legno a scortecciato, ma lo facciamo in, come lo facciamo, così, vediamo, sono indeciso se fare in orizzontale o in verticale, è un po' un casino, però, è un po' un casino però, facciamo così in modo tale che segue l'andamento delle vene di quello sopra, se, vediamo, allora, direi di fare una finestra qua così, però vedi, secondo me forse ha senso farlo verso l'alto, sai? Non lo so, ditemi, fatemelo sapere nei commenti se lo volete verso l'alto o verso il basso, cioè qual è secondo voi la migliore scelta, qui ci facciamo un bel, ecco, quello che è, se, poi altro, una bella finestra, qui, non gioca a favore la messa del legno però, eh? panico, panico, più che altro, è un po' una rottura, il fattore che, ok, qui direi di fare, una finestrella doppia, e potremmo anche fare così, non lo so, sono più propenso a farlo in orizzontale che in verticale, una, sette, ok, qui faremo, un'unica piccola finestra qua, e abbiamo finito il legno, e qui, facciamo così, abbiamo finito il legno, e andiamo a tirare giù, altri alberi, disboscando tutto, ci sono i maiali, che sta facendo di nuovo buio, ma se riusciamo a tirare giù l'ultimo, non vedete nulla, sicuramente, ma fidatevi, non vedo nulla neanche io, e buonanotte, dovremmo incominciare a spostare il letto anche, ok, dove, dove, dove devo andare, dove, dove so, ecco di qua, ecco, allora, prendiamo questo, facciamo un giro della casa, per vedere se ci sono oggetti, soprattutto creeper, questo qui, mi triggera tantissimo, lo togliamo, noi, così, ok, e, subito sopra, allora, vediamo un attimo, arriva il sole, vi facciamo una grande finestra, e qui ci sono le scale, quindi direi di, di fare una cosa bruttissima, che cavolo sta succedendo, aiuto, panico, si sono messi tutti male, direi di fare la stessa cosa che abbiamo fatto sotto qua, allora, questo perché è messo così, così, se l'è pensata, metto, mettiamolo male, allora, facciamo uno e due, uno e due, qui apriamo, ci siamo, sì, e se è rotta la pala, andiamo qui, andiamo qui, e incominciamo a spostare, questa, ci prendiamo anche, oh, bello il vetro, e il letto, e il letto, lo andremo a mettere qua, se si può, si può fare, e poi qua, andiamo a fare così, e con questo, ci facciamo una e due, dove siamo? qua, e andiamo a mettere il vetro, e andiamo a mettere il vetro, vetro, no, non è così, è così, 16, 32, iniziamo con 32, allora, uno e due, tre, ci chiudiamo, e chiudendoci, dovremmo essere in grado, anche di lavorare, di notte, luce permettendo, qua, poi andiamo qui, bella questa finestra, mi piace, ce ne mancano ancora, andiamo a farne, e facciamo altri, 16, vediamo se bastano, uno, non lo so, questo qua, da uno, proprio nella parte dove, quasi quasi, farei, perché questa parte qua, è quella più luminosa, in teoria, quindi quasi quasi, vediamo un attimo, lo farei da quattro, lo facciamo, uno, due, uno, due, tre, uno, e due, ottimizzazione, così abbiamo ottimizzato, sia il legno, che qua, no, qua ce n'erano altri, parapparapparappappà, ok, e la fornace, la fornace, l'ho presa, quindi la fornace, per adesso la mettiamo qua, brucia, ci fa la carbonella, perfetto, e abbiamo anche, il vetro, chiudiamo, e andiamo a vedere, da qua, anche stato si trova, eh, signori, questa è la nostra, casa, per questo gameplay è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, soprattutto commenti costruttivi, su come costruire, ma soprattutto, non più che altro, come costruire, su cose, particolari di design, e, come sempre, se vi va, iscrivetevi per supportare il canale, come sempre, siete i mitici, alla prossima, bye bye, e, Ciao, GIRL DI gegangen